Sono le 8.30 del mattino, siamo in via del Lazzaretto, ecco questo è il ponte che collega con Viale e Belforte. Ecco, pochi minuti fa l'impresa che ha seguito nei giorni scorsi i lavori ha aperto il passaggio pedonale accanto alla sede stradale. C'è di particolare che questo passaggio pedonale aveva fatto molto discutere perché era da due anni che era chiuso, chiuso perché il parapetto era vecchio e pericolante, ora come potete vedere è stato sistemato il nuovo parapetto che verrà poi verniciato per dargli il colore del parapetto sull'altro lato della strada a protezione dell'altro fronte stradale e però nel frattempo dopo due anni oggi è una data per certi versi storica perché riapre questo ponte pedonale.